Sono contento di apportare il mio contributo oggi attraverso questo video messaggio per l'Interest Group Cittadinanza Attiva, sia come Presidente della Commissione Envi che la Commissione dell'Europarlamento competente sui temi sanitari, che come uomo e cittadino che ha vissuto, come molti, l'esperienza di avere al proprio fianco o accudire una persona malata, ritengo sia importante discutere su temi relativi alla sicurezza e alla cura dei pazienti. I diritti dei pazienti sono al centro dell'agenda politica dell'Unione europea, come dimostrato dalla celebrazione della giornata europea dei diritti dei pazienti, che avviene ogni anno ad aprile a livello locale, nazionale ed europeo. Nell'ambito della Commissione Envi abbiamo approvato il 16 aprile del 2015 e poi in seduta plenaria nel Parlamento europeo nel successivo maggio una relazione sulla sanità più sicura in Europa, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza del paziente, la lotta contro la resistenza antimicrobica, a dimostrazione di quanto l'Europa si avvicina a tutti i temi che riguardano la cura e i diritti del malato. Per questi motivi ho deciso di supportare l'Interest Group European Patient Right and Cross-Border Healthcare, promosso insieme al Parlamento europeo, su iniziativa di Active Citizen Network, in collaborazione con associazioni di pazienti e della società civile provenienti da tutta l'Europa. Inoltre, l'Unione Europea ha di recente introdotto un nuovo e importante diritto per i cittadini europei, il diritto dei pazienti di poter andare in un altro Paese dell'Unione per usufruire cure mediche. Ritengo tutto ciò un grande risultato perché un cittadino di qualunque Stato membro, in quanto europeo, potrà decidere in quale Paese affidarsi per le sue cure mediche. Quest'anno si celebrerà inoltre il decimo anniversario della Giornata Europea dei Diritti del Malato, che rappresenterà un'ottima occasione per informare, discutere e assumere impegni per migliorare i diritti dei pazienti, così come delineati nella Carta Europea dei Diritti del Malato, tanto in Europa quanto in ciascun Stato membro. Sarà un'occasione importante per i pazienti e i loro cari affinché le loro sofferenze siano ascoltate da chi può fare qualcosa affinché la qualità della loro vita migliori.